Stai facendo il filmino? Sì! 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 Come mi stai finita? Allora, non mi stai finita! Saluta! Eh, non mi stai finita! Ah, ti fai facendo un po'! Ah, ti fai facendo un po'! Ah, ti fai facendo un po'! Ah, mi dà un fastidio questo! Ah! Ah, di là mi dà più fastidio! Bravo! Ah, un po' di là! Dove è una fastidio, eh! Am ? Non codia! Sì! Che sia , soprattutto! Mi pare debito tenuto un po'! ам .. che ora? Sì! oh ora sta brutto oh 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 oh